Dare continuità ai risultati in campionato. Questo è il compito affidato a Mr. Caneo dopo la brillante vittoria di sabato scorso a Foggia e la sfortunata parentesi di Coppa Italia. La Turris domenica pomeriggio alle 14.30 sarà di scena Liguori contro il Picerno a caccia di tre punti fondamentali per restare in scia delle prime del girone e l'avversario è, almeno sulla carta, quello ideale per proseguire il buon inizio del torneo. I Lucani, infatti, sono gli unici dell'intero girone a non aver ancora trovato la via del gol nelle prime tre giornate ed è quindi prevedibile che la squadra corallina possa avere buone possibilità di portare a casa un risultato positivo. La società, inoltre, si aspetta una buona affluenza di pubblico e per incentivare la presenza di piccoli sostenitori sarà regalata una t-shirt della Turris a tutti gli under 13 che acquisteranno un biglietto ridotto. Infine, cambio di orario per il turno infrasettimanale che la Turris giocherà a Catania giovedì 30 settembre. Le due società si sono accordate per anticipare il fischio di inizio del match alle 14.30 anziché alle 21.00. La partita sarà anche visibile gratis, oltre che in streaming, anche a tutti gli abbonati alla TV satellitare.